L'anno scolastico è cominciato e alcune scuole hanno voluto dare il via al nuovo impiego di professori e studenti con delle cerimonie ufficiali. Tra questi anche l'Istituto Superiore da Vinci Nitti di Cosenza che ha potuto annoverare tra i suoi ospiti anche il presidente della provincia Franco Iacucci. L'agurio ai ragazzi è quello di iniziare con grande serenità il nuovo anno scolastico ma oltre alla serenità noi abbiamo da parte nostra il dovere di dare tutti i servizi che sono necessari per una offerta formativa di qualità. I ragazzi hanno il dovere di impegnarsi con un profitto e grande serietà. Iacucci ha parlato anche del tema della sicurezza degli edifici scolastici. C'è una norma nazionale, noi abbiamo finito, stiamo finendo i piani di vulnerabilità per ogni edificio e da qui a poco sapremo qual è lo stato dei nostri edifici perché poi da lì dobbiamo partire per renderli sicuri e quindi dare strutture che siano accoglienti ma anche che diano dei margini di sicurezza importanti. Il Da Vinci Nitti è una scuola composita con 5 indirizzi di studio tra cui quello innovativo delle biotecnologie sanitarie. Quest'anno affrontiamo in maniera particolare la sfida dei nuovi professionali, cambia il sistema di istruzione professionale e quindi stiamo lavorando intensamente su questo. Poi proseguiremo naturalmente tutte le esperienze di alternanza scuola-lavoro con i diversi soggetti territoriali, imprese, aziende e in più abbiamo avviato diversi progetti PON. Il dirigente Calarizio ha voluto anche esprimere un augurio agli studenti. Quello di mettersi in gioco, di non rinunciare di fronte alle difficoltà ma le difficoltà vanno viste come sfide per poterle vingere e poter ottenere un successo sicuro.